Credo che qui ci sia da studiare un po' meglio la storia, nel senso che è assolutamente vero che nella fase finale del 1800 e all'inizio del 900, in un momento di esasperazione dei nazionalismi, in questa terra che era la terra di lingua tedesca più a sud, tra le terre in cui si parla tedesco, ci furono delle iniziative per affermare la tedeschità rispetto all'italianità, ma non era un'iniziativa asburgica, era un'iniziativa nazionalistica filo tedesca da parte di estremisti, che come ce ne sono sempre stati, dei nazionalismi, perché la monarchia asburgica invece era per sua natura una monarchia che cercava di far stare insieme, di far coesistere, di far convivere persone di etnia diversa all'interno di uno stesso regno, di uno stesso impero. E quindi credo che qui bisogna innanzitutto spiegarci sui termini e poi bisogna anche dire che se vogliamo risalire ad allora, quindi andare oltre il tempo dei cosiddetti reliti fascisti, che io chiamo cosiddetti reliti fascisti perché non condivido l'espressione usata dagli esponenti della destra tedesca, allora possiamo risalire anche fino al Medioevo, fino all'impero romano, fino ai re d'Egitto e compagna bella e non abbiamo mai finito.